Vi ho già detto che non uso borse? Non mi ricordo. Cioè cerco di non usare borse perché mi impicciano, perché mi occupano le mani, perché ho notato che il 99% delle donne che incontro o incrocio per strada ha con sé una borsa, mentre gli uomini no. E questa cosa mi fa arrabbiare perché c'è dietro un discorso culturale. Non sono sempre stata così. Ho infatti tantissime borse a casa, molte più di quanto non ne usi appunto perché cerco di evitare sempre di usarle. Un tempo quando dovevo andare in giro con il mio computer portatile avevo borse di diversi tipi, di diverse dimensioni, quasi tutte molto grandi, alcune anche molto belle che però non uso più perché ormai il computer non ti serve più dietro come un tempo. Quando devo accedere alle email e altre cose posso farlo tranquillamente dal cellulare. E questo mi ha aiutato a disfarmi dalle borse. Portare la borsa soprattutto a tracolla fa male la schiena perché ci sbilancia da una parte. Me ne accorgo quando sono costretta a uscire con la borsa che mi fa male la spalla. Si può subire con lo zaino. Infatti io quando devo portarmi indietro il mio laptop adesso uso uno zaino apposta acquistato per trasportare il computer. Quindi si apre anche completamente così che quando devo andare ai controlli in aeroporto è molto più facile accedere. Uso poi quando non posso farne a meno delle borse che mi metto in vita specie di marsupi anche se sono un po' più carini. Un po' più diciamo alla moda non come quelli vecchi di plastica con la cerniera. Sì c'è una vera e propria lotta che sto portando avanti una vera e propria crociata che porto avanti contro le borse. Mi direte voi vabbè ma quando esci poi dove ti metti le cose? Allora ho le tasche dei pantaloni ho le tasche delle giacche poi i miei piccoli marsupi. Effettivamente oggi abbiamo il vantaggio di le cose che mi servono sono il telefono un mini portamonete dove ci sono veramente solo le carte le chiavi di casa e poi le cuffie per ascoltare i podcast e queste cose qua credetemi stanno letteralmente nelle vostre tasche. Anche perché quando mi guardo attorno e vedo le donne con queste borse gigantesche io lo so cosa succede che poi più la borsa è grande più ci metti le cose dentro e quando la borsa è piena di cose è come se non avessi niente perché stai sempre lì a frugare a cercare e poi il contenuto delle borse grandi quelle piene zeppe la gente manco le usa perché il rossetto te lo metti prima ad uscire ripeto sono veramente due tre le cose che servono le altre si portano dietro così casomai tipo coperta di linus però invece non vengono mai utilizzate. Provate anche voi donne che mi state ascoltando provate a uscire un giorno senza la borsa e afficcarvi tutte le cose che vi servono nelle tasche e fatemi sapere se funziona fatemi sapere come va.